Allora buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 16 settembre lunedì, quindi come tutti lunedì mi raccomando non vi dimenticate che questa sera ci sarà Quarta Repubblica in prima serata sul Rete4, quindi tutti quanti sintonizzati là per vedere che cosa succede. Oggi io vi dico la verità, saluto Alberto, Fabrizio che si sono collegati ora in diretta a Instagram, Antonio che è arrivato su Facebook il primo, ma in realtà ce ne sono già 120 che sono qua. Buongiorno Antonio. Allora qual è la cosa che veramente a me fa impazzire? Voi dovete un attimo chiudere tutti gli occhi, fate così come me, fate così come me, chiusi gli occhi, chiusi gli occhi e ritornate a due mesi fa, ora siamo al 16 settembre, tornate al 16 luglio e vi dicono la seguente cosa, chiudete sempre gli occhi, che cosa vi dicono? Vi dicono che in Umbria dove la Catiuscia Marini è stata sostanzialmente indagata per merito della Davigo, come si autodefiniva lei, del Movimento 5 Stelle, cioè quella che ha iniziato a leggere tutte le lettere anonime sulla merda che c'era nella sanità Umbra. Beh, se voi vi rimettete a due mesi fa chiudendo gli occhi, potete immaginare che la Davigo dell'Umbria stia con Catiuscia Marini e vadano insieme all'elezione contro Salvini? No, non potete immaginarlo, è quello che avverrà. Dopo la lettera ieri di Di Maio al quotidiano nazionale di cui vi abbiamo parlato e che ha detto facciamo la desistenza, troviamo una civica, la sostanza è che oggi i giornali non scrivono sufficientemente, ma secondo me forse qualcuno lo fa, chi è che lo fa? Aspettate, qualcuno oggi lo fa, adesso poi ve lo racconto, qualcuno oggi lo fa, insomma si mettono d'accordo Movimento 5 Stelle e PD per andare insieme a trovare un candidato insieme che è fintamente civico, il civico, voglio dire, come si suol dire, è una delle più grandi prese per il culo del mondo, queste liste civiche, perché sono sempre liste che vengono, chi è che si mette a fare il sindaco secondo voi? Un civico? Una persona normale? In una grande città, una regione, si mette a fare il civico? Uno che passava lì per casa civilmente o uno che comunque era più o meno collegato ai partiti? Secondo voi? Ma veramente uno come Cucinelli può essere il candidato dell'Umbria per la sinistra e per il PD e per il Movimento 5 Stelle, ma vi rendete conto? Beh, troveranno un civico che sarà uno delle Lega, cooperative intendo, uno vicino al PD, uno vicino al Movimento 5 Stelle, il professore che ha scritto l'ultima minchiata contro i cambiamenti climatici, prenderanno sicuramente un civico e il civico verrà appoggiato dal Movimento 5 Stelle e dal PD. E che cosa scrive oggi il fatto che veramente vi fa capire come i giornali di partito siano diventati veramente prevedibili, la metto così, Di Maio rompe l'ultimo tabù. E quindi sembra una cosa buona, perché il tabù è una cosa negativa e Di Maio rompe l'ultimo tabù. Cioè tu, non ti accorgi che questo vuol dire fare l'accordo col partito dei ladri, come avresti scritto tu? Il partito del codice di procedura penale, quello dell'Umbria? Il partito delle intercettazioni? Cioè rompete, caro Travaglio, le balle all'ultimo dei sottosegretari che è stato assolto, ma però è stato una volta indagato e non vi rendete conto che Di Maio non sta rompendo l'ultimo dei tabù, sta proteggendo il suo culetto perché altrimenti sarebbero scomparsi da tutte le regioni. Movimento 5 Stelle e PD. E qual è il titolo del fatto? Di Maio rompe un altro tabù via i partiti candidati civici in Umbria. Allora, secondo me dovete cambiare il pusher, perché io non ci credo che neanche il più vicino... Io chiedo ai giornalisti del fatto, quelli che io incontro e che vedo, ma voi vi rendete conto che siete diventati, come direste voi, come direste voi, peggio del giornale, peggio di Libero, peggio della verità. Voi che ci avete preso in giro per una vita, secondo voi la notizia oggi del fatto è Di Maio rompe un altro tabù via i partiti candidati civici. Ma ragazzi, Di Maio ha rotto tutta la storia del Movimento 5 Stelle. Se in Umbria PD e Movimento 5 Stelle vanno insieme, vuol dire che è crollato tutto il vaffanculo di quella merda di Grillo. È crollato. Dell'evasore fiscale Grillo è ritornato quello che è, un evasore di realtà, di verità. Un assassino condannato, patteggiato, come Grillo, il cui partito è questa roba qua. È quello che diceva che si mangiava i giornalisti per poi vomitarli. Questo è Grillo. E questi purtroppo... Io non sono deluso dal fatto che Di Maio faccia il ministro degli esteri o che abbia fatto l'accordo con Singaretti, ma questa roba qui, delle regioni, dà il senso di come quell'accusa che gli faceva ieri da Pontida, in realtà Salvini, come ha fatto Berlusconi, come ha fatto Lameroni, cioè l'opposizione più banale, come ha fatto Calende, che questi non è che sono inciollati alle poltrone, sono incollati al loro stipendio che nei prossimi anni sarebbe svanito, perché un Movimento 5 Stelle che si allea col PD in Umbria è una roba che tu, se te l'avessero raccontata, non ci avresti creduto. Poi, per quanto riguarda i migranti, continuano ovviamente le grandi prese per i fondelli. Oggi però c'è una cosa molto interessante nel prezzo di Sarzanini e Fubini sul Corriere della Sera, in cui si parla di questo accordo eventuale che si dovrebbe raggiungere a Malta. L'accordo è che ci saranno non più 4, ma addirittura 6 paesi, ci si mette dentro anche la Spagna, la Grecia, che dovrebbero ottenere la redistribuzione di quei migranti, ma ottenerla prima che atterrino in Italia, cioè addirittura dalle navi si dice 20 di là e 30 di là. E questo è importante, perché se li redistribuisci dalle navi non puoi accorgerti che quelli sono i migranti economici. Vorrei che fosse chiaro a tutti voi che ci ascoltate, ma i giornali non la scrivono tanto bene, che la redistribuzione è un'altra fake news dei giornali, perché non si redistribuiscono i migranti che arrivano in Italia, si redistribuiscono eventualmente soltanto quelli che hanno potenziale diritto d'asilo. Quindi tutti i migranti economici, tutti i tunisini, tutti gli egiziani, tutti gli algerini che dovessero venire in Italia in maniera clandestina, ci riterremmo noi e non sarebbero redistribuiti. Quindi quello che sto dicendo è che nell'accordo però che sta raggiungendo l'Italia, Sarzanini e Fubini dicono che questo accordo era stato studiato da Salvini ed era stato studiato dal governo precedente Conte e Salvini. Il problema, scrivono sul Corriere della Sera che Macron non lo voleva quando c'erano Salvini e Conte, perché se no avrebbe fatto un favore alla Le Pen e quindi ora che non c'è più Salvini questo accordo lo vogliono. Questo vi dimostra come è vero che Salvini sia un cazzone che ha fatto un errore perché l'errore è stato quello di non capire che doveva trovare degli alleati europei, ma dall'altra non il complotto, ma i nemici europei gliel'hanno fatta pagare, scritto nero su bianco nel pezzo di Fubini oggi sul... sul Corriere della Sera. Vi voglio soltanto dire una cosa su Pondita in cui rilancia Salvini referendum, insomma, sapete, sono quelle ammucchiate di partito che funzionano ovviamente perché riportano a casa, insomma, l'orgoglio del proprio partito. Però c'è una cosa che vi voglio dire. State attenti perché quando si attaccano i giornalisti, come ha fatto Grillo, mangio i giornalisti e me li vomito, vaffanculo, siete tutti pagati, siete tutti leccaculo, tutte cose che diceva Grillo. Siete degli assassini della verità, le liste di proscrizione. Ecco, se li attacca Grillo mi fa orrore, ma anche se li attacca il pubblico di Pondita che si permette di aggredire un video operatore di Repubblica, così come Salvini ha sbagliato con il giornalista di Repubblica che l'aveva filmato e l'aveva fotografato sulla, come si chiama, sulla moto d'acqua, questo non si fa, ragazzi, non è che non si fa perché difende i giornalisti, non si fa perché il nemico non è il giornalista, il nemico semmai sono le minchiate che uno fa. È una minchiata mettere il tuo figlio su una moto d'acqua? Sì. È una minchiata aggredire il giornalista di Repubblica? Sì. E quando questo militante lo fa, chiedi scusa, chiedi scusa, non si aggrediscono i giornalisti di Repubblica, del giornale o del manifesto. Siccome io me lo ricordo quanto ci hanno attaccato e quanto ci hanno aggredito militanti di altra parte, non vorrei che avvenisse oggi da parte dei salviniani nei confronti di Repubblica. Chiaro? Beh, è fantastico il ministro Fioranti che ha trovato finalmente un'idea geniale. Il ministro della pubblica istruzione è il più antisemita dei ministri, tanto apprezzato dall'Unione delle comunità ebraiche italiane, questo antisemita che è oggi ministro dell'istruzione e chiamano le comunità ebraiche che dicono, ma è un bel governo, questo qui si alzava quando entrava nella sala l'ambasciatore di Israele e oggi il ministro dell'istruzione, il ministro dell'istruzione c'ha l'ideona, diamo 100 euro in più al mese in busta paga a tutti quanti i professori universitari, benissimo, facciamolo anche magari per i giornalisti precari, facciamolo, assumiamo anche gli operai dell'ILVA che sono disoccupati, va tutto bene. Certo, l'importante è cercare di spendere soldi vostri per la scuola, il che, voglio dire, migliorerebbe il livello dell'istruzione? Forse sì o forse no, insomma, comunque non è che è risolto il livello dell'istruzione dando 100 euro in più ai professori che vengono pagati malissimo, forse magari mettendoci un po' di merito, cercando di capire come funzionano gli edifici scolastici, capendo quali professori valgono e quali no, capire che una professoressa che augura che un giorno in cui muore un carabiniere dica, quella professoressa dica uno di meno, forse non è esattamente lo spirito della nostra scuola. Ursula parla sul Corriere della Sera, il Presidente della Commissione Europea, il nostro stile di vita è proteggere di più i deboli, insomma, detta da una conservatrice baronessa tedesca, mi fa ridere, e Gentiloni, battere le disuguaglianze, vi vuole un Green Deal, adesso va molto di moda il Green Deal, bisogna fare la Web Tax, bisogna fare la riforma di Dublino e anche piccoli cenni sull'universo. Insomma, adesso Gentiloni, quello che toccherebbe che lavorasse un pochino, che pensasse di non magari farsi weekend, di non farsi la pennichetta, per fare questa specie di programma incredibile che ha proposto. Quota 100, in realtà non è che abbia funzionato così bene, nonostante tutti quanti i programmi della Lega, solo 24 ore, ci dice quante persone hanno usato quota 100, cioè la possibilità di andare in pensione con 62 e 38, 63 e 37 anni di contributi. Ebbene, nei primi dieci mesi dell'anno, sono nove mesi dell'anno, scusatemi, ha interessato 175 mila persone, il che vuol dire che si parla di una ridotta quantità di persone, per lo più dipendenti pubblici, che sono andate in pensione prima, molto meno di quanto abbiano fatto altre forme di, come si chiama, di pensionamento anticipato. Fantastico, oggi leggetevelo, White di Bretton Ellis, ne parla Ferraresi sul foglio, deve essere un libro stupendo, perché ho letto soltanto le cose che scrive Ferraresi, di cui mi fido, è la cronaca dell'inferno delle buone intenzioni americane, siamo entrati in un totalitarismo che detesta la libertà di parola, mi sento sotto un controllo di un regime, il buonismo imperante, raccontato dall'americano che ha scritto American Psycho e recensito oggi da Bretton, scusatemi magari, da Mattia Ferraresi, ti viene voglia invece di fare la trasmissione questa sera, di startene a casa a leggerti White, varrebbe molto più che vedere la mia trasmissione White, è un libro stupendo, sicuramente non vedo l'ora di leggermelo, nel frattempo vi dico che sul mio sito Capezzone ha fatto un pezzo molto divertente, che ora vi trovate sul mio sito, le due prove che dimostrano come siamo sotto schiaffo dell'Europa e poi ovviamente, ricordatevi tutti quanti, questa sera, Quarta Repubblica, i due blef di cui parlerò anch'io, migranti e come si chiama, i gentiloni all'Europa che sembrano che abbiano completamente cambiato il panorama dell'Italia. Ciao, a questa sera!